Siamo nella zona di Pietrofarsia, si stanno raccogliendo le varietà di mandorle più tardive. Questa è una varietà locale, si chiama Vinci a tutti. Caplovesa e Bassine, siamo in torno al 22-24% massimo. Una vecchia varietà, siciliana, autottona, ecco, come si può vedere le mandorle al 98-99% vengono tutte raccolte. Adesso praticamente ha raccolto circa 120-130 kg e quindi svuota. Ogni circa 130 kg ha i bucchi. Sì, sì. Questa macchina fa la smallatura, però siccome le piante sono stressate, allora sono troppo cariche, allora alcune non aprono, bisognerà ripassarle. A presto. Ah, Sì, sì.